comunque oggi ragazzi sono andato sul canale di Karim ho fatto un paio di commenti mi ha risposto anche quindi ormai ufficiale non sono più gostato da Karim insomma in realtà si però non così tanto come il tempo vediamo subito la clip di Karim che ha smesso di gostarmi non è l'italiano il problema ma do tedesco come è stato? è stato normale perché loro parlano così guarda Dario imbecille offesa subito ce l'hai messo per scrivere in chat porca miseria ti ho dovuto gostare per mesi bafille l'ha detta proprio alla Livornese bafille